L'oggetto del contendere è la determina regionale numero 188 della 18 aprile. La contestazione riguarda in particolare l'affidamento diretto del servizio di portierato nella sede del Consiglio regionale. Secondo l'UGL, essendo già operativi due istituti di vigilanza, sarebbe stato più opportuno chiedere a loro un'estensione dell'appalto anziché rivolgersi a un istituto terzo con rischio di aggravio di costi. In attesa della risposta della regione Abruzzo, il sindacato sta valutando anche l'ipotesi di segnalare la questione all'autorità competente. Non è stato fatto un appalto ma un'acquisizione diretta, mia deliberazione, perché eravamo sotto la soglia dei 40.000 euro che ci consente di ottenere queste procedure. In realtà noi che cosa abbiamo contestato? Nel Consiglio regionale, la regione Abruzzo ha già due aziende che si occupano di sicurezza civile e due aziende che operano con bando di gara regolare. Ci chiediamo perché non chiedere a loro un'estensione del bando di gara anziché far entrare una terza azienda di modo che abbiamo anche più linearità, anche perché le aziende che ci sono si occupano anche di portierato. Abbiamo notato che anche sulla questione del costo abbiamo alcune perplessità circa il costo a cui è stata acquisita questa determinazione. Questo voglio dire è una questione di mercato, se io compro X va bene, se ho un X più 10 posso venire anche avere un prezzo facilitato minore, come lo vogliamo chiamare. Però questa cosa ci è sembrata molto strana perché è una determinazione che è assolutamente nei termini di legge in quanto sotto soglia dei 40.000 euro si può acquisire in linea diretta, quindi non avevano necessità di un ulteriore bando. Ma essendo noi ribadiamo, essendo presenti già due aziende, ci chiediamo perché no. Avete sottoposto la questione all'amministrazione regionale o al presidente Marsisi? Sì, abbiamo scritto già, aspettiamo risposte.